Dunque, vediamo la seconda sanzione accessoria prevista dal codice della strada, ossia l'obbligo di sospendere una attività, articolo 212. Vi ho portato anche in questo caso alcuni esempi che ho trovato facilmente attraverso il prontuario, ossia l'articolo 25 e l'articolo 27. Entrambi, il primo prescrive come può essere utilizzata la sede stradale, ad esempio mettiamo caso che una ditta deve far attraversare dalla strada magari dei cavi, dei tubi, quindi per fare dei lavori specifici. Oppure, nell'articolo 27, se si devono fare proprio dei lavori sulla strada, è necessaria un'autorizzazione dell'ente proprietario della strada ed è necessario il rispetto di determinate norme. In violazione di questi articoli si verrà sanzionati non solo dal punto di vista pecuniario ma con la sanzione accessoria del 212, cioè del sospendere quella attività. A seconda della situazione, lo vedevamo anche nell'articolo precedente, può variare da situazione a situazione, può essere intimato di sospendere immediatamente quell'attività, se ne sussistono i motivi, oppure in altri casi nei 5 giorni successivi. L'esecuzione, quindi il fatto che si sospenda quell'attività, viene controllato dall'organo accertatore della violazione. Cosa succede se si è inadempienti? Ecco, in questo caso, attenzione perché si va ad applicare l'articolo 650 del codice penale, che è quell'articolo generale che viene utilizzato in molti casi, per esempio se si sta violando un'ordinanza del sindaco o altre cose, quando non si osserva un provvedimento dato dall'autorità per specifiche ragioni che sono giustizia, sicurezza pubblica, ordine pubblico o igiene. E dice la norma, se il fatto non costituisce più grave reato, si applica appunto questo articolo 650. Quindi, se non si rispetta l'obbligo di sospendere quell'attività come sanzione accessoria, si cade nella violazione del 650 del codice penale, cioè l'inosservanza di provvedimenti dell'autorità, punibile con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a 206 euro. Dunque, possiamo vedere, come nell'articolo precedente, che anche in questo caso, diciamo, se il trasgressore non ha tempi a sospendere quell'attività, quell'attività deve essere comunque sospesa, perché ne sussistono i motivi. Quindi, l'esecuzione di questa sospensione avviene coattivamente e, se sono necessarie delle spese, da questo punto di vista, la nota spese sarà inviata al prefetto e dal prefetto al trasgressore. Questo è, diciamo, la seconda sanzione amministrativa accessoria del codice della strada. Proseguiamo con le prossime. Grazie.